molto contenti di dare inizio a questa proiezione quando ci è stato proposto questo restauro ci sono stati proposti ben due restauri di jules d'assain è stato molto difficile scegliere avremmo voluto farli tutti e due ma gli spazi di venezia classici sono limitati dobbiamo vogliamo dare spazio a tutto quello che succede nel mondo durante il corso dell'anno questo restauro e c'è stato portato da degli amici ve li presento e l'invito a raggiungermi qui sul palco allora innanzitutto simon brooke della brooke production grazie simon è stato il primo che ci ha è stato il primo che ci ha parlato di questo progetto poi andrew garroni di master licensing le due società master licensing e brooke production hanno finanziato il restauro torsten kaiser di tl e f films restoration and preservation services la società è il curatore del restauro e infine invito joan back a raggiungermi sul palco lei una presenza speciale la figlia di jules back jules back che il produttore il l'associate producer del film quindi una colonna del cinema del cinema americano suo padre poi dopo aver iniziato con con houston durante la la seconda guerra mondiale come reporter di guerra dopo queste esperienze con mark heilinger perché l'altro grande produttore di questo film mark heilinger che anche il produttore del di the killers che abbiamo qua in in venenzia classici e poi ha fondato una società di produzione con peter o'toole in inghilterra e ha prodotto molti film grazie joan back per essere qua allora passo brevemente a andrew il microfono good evening thank you all for coming this is very exciting to have a full what looks like almost a full house all i wanted to say was that the original negative was of this film was shot the film was shot on nitrate and which was very flammable and the original negative has been lost for some years so two years ago we decided with torsten that it really needed to be restored for you know the the future of the film so it's a labor of love we all love the movie first film one of the first films shot entirely on location in new york city and i think you'll see the film the way it's never been seen before since its initial release buona sera sono molto contento di vedere che abbiamo una sala gremita parlerò solo molto brevemente di questo film l'originale negativo era su formato nitrato e quindi era estremamente fiamma infiammabile ed è stato verosimilmente perso nel corso degli anni due anni fa parlando con torsten di questo film che noi tutti amiamo abbiamo pensato che dovesse essere restaurato e quindi è proprio dell'amore che vorrei parlare dell'amore che noi abbiamo per questo film il primo film che è stato filmato on location e quindi direttamente nella città passo il microfono a john all i want to say is that this film of all the many films that my father produced this is the one with which he spoke of he spoke of this with the most affection and with the most respect i've never seen it myself on a big screen so today is important also my father loved venice more than anything so today is for me a homage to the naked city and to my father jules buck di tutti i film che ha fatto mio padre questo è il film di cui lei ha parlato con il maggior affetto e rispetto questa per me è la prima volta che vedo il film sul grande schermo quindi per me è molto emozionante ed è un veramente un doppio tributo mio padre innanzitutto per questo film che lui amava molto e anche per il fatto che lui amava molto la città di venezia yeah how can i begin with the restoration that took two and a half years really in the making um it is a labor of love andrew um is perfectly right if he hadn't been here uh to accumulate all the materials over the decades really to get uh everything that was still in existence um and and sit through it and and uh uh preserve it as best as possible on the photochemical level i would not be standing here because my job would have been impossible i have really uh been privileged in working on the naked city over two and a half years and we have found over these two and a half years that so many this picture has so many surprises uh one of them being that the materials where we thought these were shot on location in a way documentary style very rough what we would call in the industry stolen shots uh basically putting up the camera without much lighting and action and go with uh people basically who would roam the streets uh at that time being in the picture we thought that that was basically a concept but william daniels the photographer also of grato garbo uh previously had something entirely different in mind he photographed it exactly right as if it was in this it were in a studio in studio environment and so when uh we uh found materials from the bfi which were alone from the bfi which were of much better quality than what we had seen before we realized and i realized that the 16 millimeter uh gritty look that we thought was there was actually much better the quality was much better and also what we then finally did with uh the problems that uh at each and every cut that uh there was there were blemishes like um you know that the picture would judder all the time which would take you off the narrative completely that is also now gone because we restored it painstakingly that's why it took so long the same for the sound i hope you uh have seen it before so that you can also appreciate the between you know before and after so um when you look at it enjoy it as best as possible and i thank you for being here and uh supporting film restoration and preservation this way because that is extremely important to us thank you si come è stato detto questo è stato un vero e proprio atto d'amore quello che abbiamo fatto ci fosse stato andrew che ha accumulato e messo insieme il materiale esistente tutto questo non sarebbe stato possibile è stato lui che in qualche modo setacciato e poi mantenuto anche molto bene il la pellicola quello che lui effettivamente ha trovato se non fosse stato per lui il mio lavoro non sarebbe stato possibile io mi sento molto privilegiata di aver lavorato per due anni e mezzo su questo su questo materiale e abbiamo visto delle cose anche molto interessanti nel corso del restauro innanzitutto questo stile molto documentaristico questi queste riprese quasi rubate con poca luce e il fatto che venissero riprese persone nella strada noi avevamo un'idea in realtà poi daniels che è il fotografo è stato fotografo anche di grattagarbo riprendeva come se fosse in uno studio e le la pellicola migliore l'abbiamo trovata grazie al bfi british film institute dove abbiamo ci siamo resi conto che questo look da 16 mm che che sapevamo c'era aveva una qualità molto migliore di quello che in realtà noi ci aspettavamo e se aveste visto inizialmente quello che avevamo a disposizione le immagini in qualche modo in modo si spostavano ecco questo è stato rimosso rimosso durante il restauro e lo stesso vale per il suono anche il suono è stato ristrutturato in realtà io spero che qualcuno di voi in sala abbia già visto questo film in precedenza da modo di modo da poter valutare il primo e il dopo il prima e il dopo cos'altro posso dire se non spero che vi piaccia la visione grazie a tutti e continuiamo a promuovere il restauro grazie buona visione a tutti